Salve a tutti ragazzi sono Andrea e benvenuti in questa nuova puntata di SubSub Intanto faccio un piccolo... un anticipo se si può dire Siamo sulla versione 0.25 appena rilasciata, rilasciata ieri sera che tra l'altro io mi sono goduto solamente adesso Perché stavo da mio padre e Yuppie E quindi intanto già si vede dal nuovo edificio e comunque anche dalla nuova texture del terreno perché mi pare leggermente differente Allora, oggi andremo a vedere un aereo fatto... un aereo? A che caso sto dicendo? Un craft comunque fatto da Davide Perché ho scelto questo craft che tra l'altro mi è stato anche pubblicato tipo pochi secondi fa, pochi minuti fa È perché si tratta di un lanciarazzi e dato che 0.25 uguale veicoli... no veicoli edifici che si distruggono perché non provare Quindi, oltre a questi 2.000 robi inutili che dovrò allevare, non so perché ancora non ho allevato Si chiama lanciarazzi Mark III L'ho già leggermente sistemato, ho fatto qualche modifica perché prima aveva qualche problema per la posizione dei razzi E anche un piccolo problema qua sulla pista, la rampa o quello che sia Quindi ho preferito modificarlo fuori onda Non l'ho ancora provato quindi magari fa un boom assurdo Ho modificato anche leggermente le posizioni delle ruote che tra l'altro devo anche modificare qua Un'altra, no che non me lo fa fare quindi Questa va un po' più bassa perché se no... oh Ok Quindi partiamo subito Intanto ho provato questa versione quindi comunque L'ho provata, ho visto l'esplosione ed è qualcosa di fantastico, ho anche i nuovi suoni E allora, intanto facciamo uscire il Kerbal Che tra l'altro ho anche messo qua Intanto dovrebbe esserci la nuova tuta Infatti sì, almeno così mi sembra, sembra ci sia una tuta differente Forse più texturizzata rispetto a quella precedente Allora, board E andiamo a staccare la capsula Quindi adesso possiamo tranquillamente partire Intanto una delle prime cose che ho sistemato è il fatto di... Delle cose, le ending struts Perché davano un fastidio assurdo Ovvero toccavano terra ogni 15 secondi E veniva un po' una palla Ogni volta a dovere fare micro movimenti Per evitare che toccassero per terra Allora, una delle cose più fighe intanto È che i razzi a funzionare funzionano anche abbastanza bene Il problema è che trattandosi di una rampa di lancio fatta Beh, con le singole parti Ogni tanto si intoppano Per risolvere questo problema non posso risolverlo Ma non perché non è risolvibile Ma perché in pratica bisognerebbe riprogettare totalmente la rampa E levare queste struts Che secondo me non sarebbero dovute essere messe Perché in pratica si attaccano tra di loro queste parti Quindi è anche inutile metterlo là E riprogettarlo comunque avrebbe impiegato un bel po' di tempo Allora Ora mi reco subito al VAB Perché voglio far crollare il VAB Vediamo se ci riusciamo Perché ho paura che questi 5 razzi non bastano 5 razzetti Allora Intanto Una cosa che mi è piaciuta soprattutto di questa È che sia Si possono sia lanciare Da loro Cioè Metti potenza Prendi e lanci Sia in sé Farli controllare direttamente Da ogni singolo Cioè per esempio Voglio prima lanciare Il probo dopo Dain E quindi lo posso fare Intanto Faccio un fix qua Perché sono invertiti due razzi Cioè Prima viene tipo lanciato questo qua E poi quest'altro Così dovrei sistemare Allora Adesso provo un lancio singolo Utilizzo il nuovo tasto Z Attivo i brakes E attivo le landing legs Anche se Si ok Un po' lo tiene fermo E lo solleva leggermente Per me potresti anche Metterle qua di lato Due qua Allora Attivo le 6S E Partenza Ecco Come potete vedere Si intoppa Però Adesso passo La visuale sul razzetto E lo faccio ripartire E esplodere qua Come Come pochi Ok Fuck Yuppi Allora Ma più Pensaci te Switch tu Perché non posso switchare Quando il vest... Kerbal cattivo Vabbè faccio esplodere E parto con l'altro Perché mi è esploso In un modo veramente Molto brutto Ciao Contento Allora Tracking station E vado a prendere quello Perché in pratica Si crea uno scalino Lancia razzi Di regola Questo Si Che La rampa in pratica Sarebbe stata Fatta Cioè io l'avrei fatto In modo di differenza Adesso vediamo se funziona Comunque Magari se Ok E come puoi vedere Si intoppa Infatti E' andato fuori obiettivo Ovviamente io sempre Mi dimentico Di Di Potenziare Quindi Ovviamente Devo esplodere In tutti i modi Tranne che nel modo Giusto Adesso metto la potenza E Questo parte bene E anche quest'altro E Come risolvere questo Ti ho detto Sarebbe da Riprogettare totalmente La rampa Adesso io posso anche Provare a farlo in breve Il problema è che Dovrei Un po' Rifare tutto Allora Dove sei Ovvio che se non lo apro Allora Lancia Lancia razzi Allora Sarebbe da Levare questo Ok Contiene tutto Questo Ma questo Si può levare Sicuramente Questo in pratica Mi va a levare Tutto Si infatti E' un po' Un casino Andare a levare Questa parte Perché in pratica Sarebbe da Veramente Riprogettare Tutto Viene seriamente Un casino Allora Intanto andiamo a mettere Ci sono le nuove parti Quindi se vedete Tipo roba strana E la 025 Che magari ancora Non l'ha potuta aggiornare Allora Ok Singolo Adesso Se Kerbal Mi vuole bene Ok Praticamente Se devono essere messi Lo scalino Non deve essere Verso il raggio Ma verso l'uscita Così che non si va A generare lo scalino Si crea comunque Uno scalino Che non va A disturbare In nessun modo Adesso Questo mi viene storto Non so il perché No invece no Ecco Così non crea problemi Comunque Oddio Forse è leggermente Troppo inclinata Adesso magari Kerbal mi vuole bene Ovviamente no Ok Ok Già Ogni tanto Inverto questi Perché tipo Questo Questo è quello sopra Quindi va Invertito Adesso Lo riprovo un secondo Senza fare 2000 variazioni Provo direttamente Lascio anche la capsula Collegata Tanto si tratta Di un test Già che non sta laggando Fraps È buono Perché per aggiornare Kerbal in pratica Ho dovuto combinare Un casino Quindi Sto anche Leggermente Allora Si crea comunque Lo scalino Ma forse adesso È minore E partono Ecco sì ok In pratica Ho parzialmente risolto I problemi che aveva prima Ovvio che Quello Quello più in alto È quello Generalmente più problematico Adesso Ripartiamo E proviamo ad abbattere Non il VAB Perché il VAB è tipo Giusto un Kerbal X Se ci schianti Do su un Kerbal X Succede qualcosa Allora Stacchiamo L'allegro Kerbalino Corri L'allegro Kerbalino Da qua No ok No Fa Su 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 Run Run Bravo Stacchiamo la capsula E andiamo Ecco Il problema è che Durante il time warp In pratica Vanno a toccare queste Cioè le landing legs Che forse Potevano anche Non essere messe Perché attivando i freni Funziona Funziona comunque Da blocco E quindi Non si crea Tutto questo problema Proviamo a distruggere Prima provo a distruggere La torre dell'acqua Questa qua Che comunque Mi piazzo abbastanza vicino Quindi Spero Si distrugga bene Intanto già potete vedere I nuovi effetti Delle esplosioni Perché si vedono Intanto alberi Ovunque Lì dietro Allora Ok Avevo No crash Avevo Non so il perché Ah ok Sì mi ricordo il perché Perché stavo Oh merda Oh merda Oh merda Yuppi Allora Tu Lascia il sedile Ma dove cazzo Sei andato Ripara ruota 1 Ripara ruota 2 Risali sul tuo Sul tuo Allegro sedile Mi piace un botto Come ha fatto La camera laterale Questa È veramente fantastica Non so perché Avevo Sì perché Stavo testando Prima la 025 E quindi Avevo la Poi comunque È una sub sub Quindi neanche c'è bisogno Di Di tenere O non tenere Iacca Allora Primo razzo Potenza al massimo Ok Non è andato molto bene Il secondo va Ha fatto qualche danno Boh Esposito in random Il terzo pure va Perché non stai Crollando Il quarto Va Il quinto Va Perché non è crollata Ti odio Ok Forse serve qualcosa di più pesante Però strano perché questa si distrugge in pratica Con nulla Ecco Bene 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 Sì mi pare giusto Devi ovviamente esplodere E fare casino Quando Ovviamente se mi ci schianto addosso Sì va Ma che cazzo Vai così Kerbal ti sei bagato da morire E quindi Dato che ormai l'ho distrutto E E si è anche Stravagato E straesploso Tutto qua Perché È successo un casino Ora Mi sbaglio O cammino nel modo più brutto Lateralmente Forse Boh Non ho fatto camminare De Kerbal La cosa che mi fa impazzire La 025 È la collision box Che è fantastica In pratica È fatta Veramente a minimi dettagli Allora vai Salta 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 Ok Cammino sulla tomba Della torretta Cammino sulla tomba Non so perché Questi momenti di depressione E bene Per il resto Non ho nessuna modifica Da suggerire Perché comunque È fatto veramente molto bene Ti è È l'unica cosa che ho modificato È la posizione del razzo Che sono legati Ai Ai generatori termoelettrici E questa cosa è veramente Molto furba E mi è piaciuto molto E poi Ho leggermente Modificato La rampa E Ce l'ho detto Per me Potevi anche non mettere questo Però Si Magari fa Struttura figa E la cosa che potresti mettere È mettere Questi Che adesso vado a mettere io Tanto per Magari li giro Ok 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 Uno E due Così almeno da bilanciare Senza che va tutto sul lato Si solleva da un lato Che viene anche un po' bruttarello Forse Si potrebbe anche abbassare un po' questa Così da farlo più Ascorimento In generale come idea è qualcosa di fantastica Perché non ho mai visto una cosa del genere Lo ammetto Non ho mai creato un lanciarazzi così Cioè I miei lanciarazzi in pratica Erano Razzi con sopra altri razzi Quindi È veramente furba come cosa E Tosse e malattie random Scusatevi ma Quindi Direi che Può bastare Comunque come cosa è fantastica Magari Per la 025 Non fa danni Ma magari su qualche struttura la fa O forse Possono essere fatti un po' più Cazzuti I razzi Cioè Magari metterne un altro Cioè Anche generatori termine elettrici qua È tipo Il dio del glitch O qualcosa del genere E Oppure Ho utilizzato Coso E Li Aiuto mi te Park Leaping Ma comunque è figa come idea È bellissima Quindi Un saluto a tutti Dato Indicare Malitalia Da Andrea Ciao Ciao